Ciao ragazzi e ciao ragazze, finalmente vi faccio il video, è un video haul dai, quindi i prodotti che ho comprato nell'ultimo periodo e che ho anche provato. Iniziamo subito con il primo prodotto, vado un po' assolutamente a random, che è questa. Questa qua è la palettina Naked Basic di Urban Decay, è stata molto chiacchierata, questa palettina c'è chi la ama e chi la odia, io la amo perché è la palettina che uso di più, si infatti è un po' sporchetta, un po' rovinata, vabbè insomma, è quella che uso di più, è quella che comunque per le serate, bene o male, per i ritocchini, la porto sempre con me, è fantastica, vabbè, Urban Decay io la adoro, ho tantissime cose, vabbè, gli ombretti sono ultra pigmentati, non c'è che dire, insomma, la Urban Decay è stata veramente fantastica a proporre questo prodotto. Poi passiamo ad un altro prodottino One, prodotto One che è questa, questa è una palette di Urban Decay e la Vince 2, vabbè, il packaging è formidabile, c'è, vabbè, c'è il logo Urban Decay, il rilievo, mamma mia che casino, vabbè, comunque, all'interno c'è uno specchio gigantesco e questi sono i colori, vabbè, è pieno di glitter, l'ho usato abbastanza. Comunque, questi sono i colori, sono dei colori meravigliosi, vabbè, ultra pigmentati e alcuni di questi ombrettini sembrano addirittura dalle texture quasi in crema, non lo so, magari, però sono meravigliosi, meravigliosi, alcuni sono un po' polverodini, però tutto sommato è una palette ottima, questa l'ho pagata, eh, sì, questa costa 25 euro, se non erro, comunque nell'info box, tutte le, tutti i prezzi, dell'info, no, questa qua mi pare che l'ho pagata sui 40, sarà più o meno sui 40 euro, l'ho pagata più o meno sui 30, 35, non lo so, comunque qua sotto, tutti i prezzi, perché non ricordo, sono una smemorata, mannaggia. Poi, mettiamo qua i prodotti che ho già fatto, perché se no qua faccio un casino, poi, oh, fondotinta, fondotinta, io uso per tutte le serate drag, io uso questo, che si vede un tip, diciamo come le guru, questo qua è un fondotinta della Vichy, il Dermablend, top, cioè, questo qui è fantastico, anche perché comunque è quello che ho addosso su, sto morendo però, cioè, sto grondando di caldo, ma è questo, resiste alla grande, all'acqua, quindi io sudo come non so cosa e questo rimane, ed è veramente un fondo fantastico, non rappresentisce la pelle, anche se ha comunque una coprenza molto alta, non si sente, non so come dire, fantastico, io uso la tonalità 25, secondo me è un po' oscuretta, ma forse anche no, molto molto buono, e questo l'ho pagato più o meno, dipende, il prezzo di questo fondotinta è variabile, in alcuni posti costa 17 euro, in alcuni costa tipo 20, 25, una cosa così, io l'ho pagato 20 euro più o meno, comunque in farmacia della Vichy è fondotinta Dermablend, buonissimo, volevo farvi vedere gli eyeliner della Criolan, che sono questi qui, ci sono i J-Liner della Criolan, io ho l'Ebony, che è il nero opaco, e poi Snow, che è un bianco, questo qui è il nero, bianco opaco, bellissimo, allora questi due eyeliner dovrebbero costare più o meno sui 15 euro, e sono fantastici, perché sono, io li chiamo a prova di bomba, perché praticamente non si sciolgono, rimangono lì, perfetti, voi sudate, vi grattate, rimangono lì, cioè, io non ho problemi nel toglierli, alcuni hanno, ho sentito degli amici che ho, che lo usano, e alcuni hanno detto che è un po' un problema toglierli, io non ho assolutamente alcun problema, e sono fantastici, se avete la possibilità, comprateli, però, questo qua si chiama Sealer, che è K-Liner Sealer della Criolan, allora, questo qua è un prodotto fantastico a parer mio, serve rendere waterproof qualunque cosa, ad esempio, voi avete un ombretto in cialdina, che magari, non so, usarlo come eyeliner, bene, questo può, questo può aiutare le vostre esigenze, rendere waterproof ogni cosa, potete creare il vostro eyeliner, potete, non so, anche l'acqua color, volendo potete, al posto dell'acqua, ci mettete questo, basta, niente, qua basta metterci una goccina, ed è top, comunque questo qua costa più o meno 13 euro, non lo so, non mi ricordo, comunque, nell'info book, tutti poi, questo, della Beauty UK, che è il rossetto che uso adesso, ok, questo qua è un rossetto della Beauty UK, favoloso, favoloso perché è molto cremoso, rimane molto lucido sulle labbra, ovviamente, se volete renderlo opaco, lo tamponate con una velina, sì, scusate lo smalto, che fa schifo, ma, sorry, vabbè, comunque, questo qua, basta che lo, lo tamponate con una velina, è, di niente, opaco, idrata da morire le labbra, tantissimo, dura tantissimo tempo, io mi ricordo che per il mio diciottesimo compleanno, l'ho usato, l'ho indossato, da, da che ora, buh, dalle 4 di pomeriggio, fino al, non mi ricordo, comunque molto tardi, insomma, ed è rimasto, cioè, e dopo una certa è diventato quasi uno transfert, perché baciavo la gente, tra guancia, e rimaneva lì, quindi molto, molto buono. Ta-da! Allo stand BB Cream Italia, se non erro, ho acquistato questa palettona, questa qua è della Blush Professional, e sono 120 colori, aiuto, allora, praticamente si alza, si posiziona, questi sono, i 120 colori, sono uno più bello dell'altro, allora, io l'ho presa perché comunque, vabbè, volevo comprare, provare, comunque una paletta del genere, vedo che mille marche la stanno facendo, Zoeva, BH Cosmetics, Fraulein, e anche questa marca qui. Allora, i colori va sono bellissimi, non durano tanto, perché ovviamente è un buon ombretto, insomma, bisogna guardare anche la durata sull'occhio, niente, questi qua svaniscono molto presto, e c'era comunque a cimentarsi nel mondo del make-up, così, la consiglio, perché questa qui, io l'ho pagata più o meno 19 euro scontata, e veniva più o meno sui 30, sì, sì, no, 30, comunque nel caso, vi metto il link di questa palettitona, nell'info box, comunque non è male, per chi vuole iniziare, comunque a cimentarsi nel mondo del make-up, per, insomma, non è professionale, per intenderci, vabbè, ciao! Ciao!